A sette anni dall'omicidio di Katia Dello Marino, il suo assassino Reo Confesso è in regime di semilibertà. Peter Polverini, in virtù del comportamento irreprensibile tenuto all'interno della casa circondariale e anche in considerazione del precedente status di incensurato, quattro giorni al mese potrà uscire dal carcere di Orvieto dove sta scontando la pena a 14 anni e potrà incontrare familiari ed amici. Una notizia che la famiglia di Katia ha accolto con profonda amarezza ed elusione. L'omicidio si consumò nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2016. I due si appartarono in una strada bianca, ma la serata degenerò in una violenta lite per questione di soldi, appena 10 euro. Peter Polverini, all'epoca 24enne, prima la malmenò, poi si scagliò contro di lei con un martello uccidendola. Infine l'abbandonò sul greto del torrente Afra a Sansepolcro. Dopo il delitto ripartì e tornò verso casa, disfacendosi anche dell'arma gettata in un cespuglio. I carabinieri risalirono a lui dopo una lunga estate di scrupolose indagini. Venne arrestato due mesi dopo, il 16 settembre 2016. Il 30 gennaio 2020, l'ultima fase processuale nei suoi confronti, quando la Cassazione confermò la sentenza d'appello, 14 anni di condanna per l'omicidio della donna.